Esoscheletri per scaricare nel modo corretto l'energia degli spostamenti, interventi sui giunti strutturali, solai rinforzati, una valutazione su 2.000 serramenti con la previsione di cambiarne l'80%. Si prospettano anni di lavori all'ospedale San Martino di Belluno, al centro di un grande piano di miglioramento dell'antisismica. Il complesso risponde agli standard delle vecchie norme, ma non raggiunge i livelli impostati dalle nuove. Inoltre si agirà su antincendio e risparmio energetico. Il tutto entro il 30 giugno 2026 e con i soldi del Piano Nazionale Complementare che viaggia in parallelo con il PNRR. È un intervento che durerà circa 4 anni. L'importo complessivo è di circa 45 milioni di euro e quindi renderà sicuramente l'ospedale molto migliore dal punto di vista sia dell'antincendio che dell'antisismico, ma soprattutto consentirà in futuro un risparmio energetico sia durante l'estate che ovviamente soprattutto durante l'inverno. Verranno modificati alcuni ascensori perché verranno proprio sostituiti. L'altro elemento importante è che verranno montati dei montalettighe. I montalettighe ci servono per esempio nel caso in cui ci dovesse essere un'evacuazione veloce dell'ospedale perché rende ovviamente più facile la fuoriuscita del personale e dei nostri utenti nel caso dovessero esserci degli imprevisti e quindi più funzionale proprio la struttura dell'ospedale. I primi interventi sono già partiti e per il futuro si prevede qualche disagio legato quasi unicamente al rumore e alla possibile necessità di percorsi diversi per raggiungere i reparti. Nessun cambiamento ai servizi, nel senso che abbiamo istituito un gruppo di lavoro che lavora in diretto contatto con la direzione lavori e con l'ufficio tecnico proprio per evitare che ci sia un'interruzione nei servizi.